Ristretto Italiano, edizione Whatsapp. Buongiorno, cominciamo dal meteo. Come certifica Meteo Red dalla Spagna, al momento noi italiani siamo una delle due punte, dei due hotspot che fanno di questa estate un'estate con pochi precedenti. L'altra è la penisola scandinava, con temperature più alte anche di 18 gradi rispetto alla media stagionale, al punto che le notti di Granada, come scrive l'articolo, sono più fresche di quelle di Oslo. Gli altri siamo noi, con 40,7 gradi a Roma che negli ultimi due giorni ha superato anche la Sicilia. Intanto dalla Grecia l'IFU riferisce che tra le diverse misure di contenimento idrico predisposte dalle amministrazioni locali, a Castenaso il sindaco ha vietato a parrucchieri e barbieri il doppio risciacquo dei capelli, prevedendo molte fino a 500 euro per i trasgressori. Il piccolo comune del Bolognese conta 16.000 abitanti e 10 saloni di parruccheria, i cui gestori però fanno notare che per certe lavorazioni non è possibile rinunciare a secondo risciacquo. Non solo Salvini. Anche adesso, tre anni dopo la dipartita del leader leghista del Viminale, prima di avere il permesso di sbarcare, i migranti aspettano a lungo in mare, sotto il sole di questi giorni. A oggi, come riferisce El Universo dalla Spagna, sulle barche delle ONG, Sea-Watch, SOS Mediterranea e Louise Michel, ci sono circa 500 profughi, persone che mostrano evidenti segni di sfinimento come riferito dai soccorritori. L'Italia, precisa d'articolo, sta vivendo un aumento degli arrivi favoriti anche dalle condizioni del mare, 26.000 al 24 giugno contro i 16.000 dello stesso periodo del 2021, cifre destinate ad aumentare a causa della mancanza del grano dei paesi africani e anche per la crisi delle costruzioni in Libia, dove lavorano molti uomini bengalesi. Tempi duri all'orizzonte per i lavoratori degli ex stabilimenti Fiat di Termoli. Reuters da Londra riferisce che con la transizione a Gigafactory per la costruzione delle batterie elettriche, programmata da Stellantis, dal 2024 partiranno le prime casse integrazione per gli attuali 1.000 lavoratori, mentre l'intera forza lavoro dovrebbe tornare a pieno regime nel 2030 con 2.000 lavoratori. Le attuali produzioni continueranno per al massimo due anni, mentre quelle iniziali per la nuova Gigafactory cominceranno nel 2026. Termoli sarà il terzo centro più importante d'Europa di Stellantis. Venerdì speciale, il prossimo per il piccolo centro molisano di Fornelli, che riceverà la visita di una discendente molto speciale, la Presidente del Parlamento statunitense Nancy Pelosi. Delle origini italiane, della speaker della Camera dei Rappresentanti già si sapeva e poi si poteva dedurre dal cognome. Mi sembra di capire però dall'articolo che solo cinque anni fa, nel 2017, Pelosi abbia identificato in Fornelli il comune dal quale emigrò il nonno materno, Nicola Lombardi. Nonostante il carattere privato della visita, nella quale l'illustre ospite sarà accompagnata dalle figlie e dalle nipoti, il sistema di sicurezza attivato dall'ambasciata americana si annuncia davvero imponente. Era l'ultima, a domani.